Ha scelto di laurearsi in fisica, materia che è sempre stata una prerogativa maschile, si può dire, tutto sommato. Beh, diciamo, a me la fisica piaceva molto, fino dal secondo liceo, quando si è cominciata a studiare fisica. D'altra parte ci sono moltissime ragazze che fanno fisica oggi, che sono anche molto brave, vengono un borso di studio e fanno il dottorato di ricerca, quindi non direi che è più una prerogativa maschile. D'altra parte basta pensare a Eva Curie, che è stata una delle maggiori fisiche di questo secolo.